Per te che affronti con passione le sfide di ogni giorno. Per te che trovi una soluzione davanti ad ogni istacolo. Per te che metti attenzione in ogni tuo gesto. Per la tua esperienza e la tua professionalità. Al tuo fianco c'è Capriol. Abbigliamento e utensileria da lavoro. Perché un lavoro ben fatto è la migliore soddisfazione. Capriol. Sempre con te.